popolo il nemico della comprensione è lo sbilanciamento e la perturbazione mentale insufflate forzosamente e strategicamente la parola popolo è parola vuota è uno zimbello non esiste alcun popolo non è mai esistito non esisterà mai in nessun luogo del pianeta esistono gruppi limitati circoscritti ed omogenei di individui con medesimi interessi e culture affini quello che siamo stati ammaestrati a chiamare popolo è accorpamento in via astratta e simbolica di numerosissimi gruppi omogenei che non avranno mai in comune qualcosa ciò rende l'individuo disarmato e vulnerabile giacché attenderà in vano che una entità inesistente compia atti rivoluzionari che mai potranno avverarsi questa è una delle ipnosi meglio congegnate dal dominio e funziona benissimo spesso tanti commenti appena approvati automaticamente spariscono avevo appena flaggato il cuoricino postato da questo utente e il commento che avevo copiato perché ero intenzionato a replicare chiedendo di poter fare questo video è sparito immediatamente e succede sempre più spesso qui si legge due risposte ma ne appare una sola grazie ms scrivo solo le iniziali perché non so se saresti felice di leggere il nome del tuo canale per aver postato popolo